Se avete mai provato a installare GNU Linux su un PC relativamente recente, specialmente un portatile, saprete quanto non sia banale che tutto funzioni fuori dalla scatola dal primo momento. A volte può essere solo questione di installare un driver proprietario che, per questa ragione, non era stato incluso all'interno del kernel. Qualche altra volta, però, il driver in questione potrebbe essere di scarsa qualità o completamente assente. E a molti piace incolpare gli sviluppatori del kernel per questa cosa, ma la verità non potrebbe essere più diversa. Vedete, non è esattamente comune per i vari produttori hardware rilasciare anche un driver per Linux. Con un market share di appena al 2% su desktop è molto più facile che la casa produttrice X in questione preferisca concentrarsi soltanto sul driver per Windows. Perciò, se su Linux una periferica funziona in primo luogo, spesso è proprio grazie al dedito lavoro degli sviluppatori kernel che hanno scritto un driver spesso partendo da zero per quella periferica. Ci sono anche produttori che sviluppano un driver per Linux, ma raramente lo rendono open source. E un driver open source è problematico perché non può essere incluso nel kernel, può solo essere installato separatamente come un modulo aggiuntivo. Prendiamo Nvidia ad esempio. Ogni volta che esce una major release di Linux, il driver Nvidia si rompe. E nessuno può sistemarlo se non Nvidia stessa. Ovviamente la rapidità con cui questo driver viene sistemato e reso disponibile per la nuova versione del kernel Linux dipende interamente solo e soltanto da Nvidia. Nessuno può aiutare a velocizzare il lavoro, nessuno può sistemarlo prima ancora che esca la nuova versione del kernel se non Nvidia stessa. E poi dirò una cosa banale, ma un driver closed source non beneficia delle correzioni e delle ottimizzazioni che possono portare gli sviluppatori della community. Quindi ad esempio se c'è un problema con il driver grafico Nvidia o con il driver Broadcom closed source eccetera eccetera siamo alla mercè del produttore hardware. Perché lo sistemi? Potrebbe farlo, potrebbe non farlo mai. Oppure potrebbe prendersi il suo tempo. Considerate che Nvidia è una compagnia grande con molte risorse e già non sta facendo un lavoro fantastico con i driver su Linux. Vero Nvidia? Ma vogliamo parlare di realtà più piccole. Non c'è verso che questi riescano a mantenere il driver per Linux. Infatti molti, specialmente nell'embedded, rilasciano un driver closed source che funziona solo sulla versione attuale del kernel senza mai aggiornarlo quando escono versioni successive. Ottimo lavoro! Così siamo costretti a usare quel dispositivo con quella ormai vecchia versione del kernel. Il che è abbastanza un problema perché con gli aggiornamenti kernel arrivano generalmente aggiornamenti sulla sicurezza, importanti anche. Arrivano ottimizzazioni delle performance, arrivano nuove funzionalità e soprattutto dopo un certo numero di rilasci non è più garantito che una certa versione sia ancora compatibile con una versione vecchissima del kernel. Non sono sicuro che possiate compilare Ubuntu 21.10, l'ultima uscita, con una versione del kernel molto vecchia, ad esempio la 3, perché a un certo punto ci saranno delle librerie di basso livello che si interfacciano col kernel che avranno rotto la compatibilità. È semplicemente il modo in cui lo sviluppo software funziona. Dopo un certo numero di rilasci, qualche major release introdurrà per forza delle breaking changes, cioè dei cambiamenti che rompono la retrocompatibilità. E poi c'è il discorso privacy. Molti utenti preferiscono usare Linux perché gli altri sistemi operativi sono sostanzialmente spyware. Ma se usi Linux e i driver delle periferiche che stai usando sono closed source, chi ti garantisce che non stiano facendo più di quello che dicono di fare? Un driver della scheda di rete non open source potrebbe tranquillamente mandare una copia di tutti i pacchetti che vengono trasmessi a un indirizzo che magari corrisponde all'NSA o magari semplicemente ai server della casa produttrice di quella scheda di rete o cose di questo tipo. Mi rendo conto che suona un po' come un complotto e alcune di queste cose sono facilmente sgamabili con uno scanner di rete. Ma non è sempre così banale. Possono succedere tutta una serie di cose abbastanza subdole per cui non ci accorgiamo immediatamente che qualcosa non va. Anzi, potremmo non accorgersene veramente mai. Vi faccio un altro esempio. Mettiamo che questo driver closed source della scheda di rete non si comporti in maniera maligna tutto il tempo, ma soltanto quando riceve una particolare sequenza di pacchetti formati in una certa maniera. Insomma, quando riceve un knock-knock molto specifico che la casa produttrice ha pensato appositamente. Buona fortuna a trovare questa cosa. Fortunatamente ci sono degli hackers buoni, i cosiddetti white hat, che a volte si mettono a disassemblare il codice degli eseguibili, che siano driver, che siano software, e cercano di capire, facendo reverse engineering, cosa stia succedendo sotto la scocca. Ma non è sempre così banale accorgersi di queste cose. E lasciate che ve lo dica, come lo fanno i white hat, lo fanno anche i black hat, cioè quelli che invece, se trovano una vulnerabilità del genere, non fanno la disclosure pubblica in maniera responsabile, avvertendo prima il produttore che è stata scoperta la falla, permettendo di fixare il problema. Magari pensano semplicemente al loro interesse e la vendono. Vi ricordate WannaCry, il ransomware che critta tutti i file e poi chiede riscatto, poi ne sono nati altri mille su quello stampo? Bene, il modo in cui si è diffuso WannaCry, cioè il vettore d'attacco, è una vulnerabilità nel protocollo SMB, Savage Message Block, di Microsoft, quello delle condivisioni di rete, che permetteva l'esecuzione arbitraria di codice. Ora, non si sa e non sapremo mai se questa vulnerabilità è stata deliberatamente introdotta da Microsoft su richiesta dell'NSA o se l'NSA semplicemente abbia scoperto questa vulnerabilità e abbia cominciato a sfruttarla. Quello che sappiamo è che qualcuno al di fuori dell'NSA a un certo punto ha scoperto a sua volta questa vulnerabilità e ha pensato di cominciare a farci un bel po' di soldini. Vedete, tutte le volte che ci sono delle backdoor, Sì, certo, finché sono in mano a quelli buoni, non succede niente, ma nessuno ci garantisce che rimarranno per sempre in mano a quelli buoni. Pensate che pure Linus Torvalds è stato contattato dall'NSA che gli avrebbe chiesto di inserire delle backdoor all'interno del kernel per garantire l'accesso da remoto. Ok? La verità, per come la vedo io, è che non possiamo fare l'assunzione che un software non faccia nulla che non dovrebbe fare. Insomma, sia dal caso che inserire backdoor in software closed source sia piuttosto semplice e abbastanza comune a quanto pare. Mentre non si può dire lo stesso per software open source, visto che comunque il sorgente è un pochino sotto gli occhi di tutti. Ma il fatto di avere una backdoor closed source non la rende automaticamente più sicura o ad uso esclusivo di chi la richiesta. Questo l'abbiamo visto molto bene con WannaCry solo per fare un esempio. E gran parte di questo discorso vale anche per il firmware delle periferiche, cioè quella parte di software che viene eseguita direttamente sulla periferica per comunicare con il driver del sistema operativo, qualunque esso sia. Quindi il firmware della periferica è ancora più subdolo, ma soprattutto può agire completamente all'oscuro del sistema operativo. Un esempio un po' allargato di questa cosa può essere l'Intel Management Engine, un vero e proprio micro sistema operativo che esegue direttamente sulla CPU, a prescindere da quale sistema operativo poi voi installiate sul vostro computer, che ha accesso diretto alla rete, alle vostre periferiche, a quello che digitate sulla tastiera, e via dicendo. Insomma, una vera e propria backdoor installata da Intel. E se pensate, ah, io sono furbo perché ho AMD, no, perché esiste una cosa simile anche sui processori AMD. Ad oggi purtroppo avere dispositivi open su tutti i fronti è estremamente difficile, per non dire impossibile. E allora viene da chiedersi perché, se avere un driver o un firmware open source permette al produttore di beneficiare degli aiuti della community nello sviluppo di tale driver o firmware, e magari alleggerire anche un po' il carico degli sviluppatori, perché non dovrebbero tutti quanti rilasciare il proprio driver open source? Sembra banale, no? Ma la risposta potrebbe non essere così banale come può sembrare. Quello dell'hardware è un mondo abbastanza competitivo, in cui non conta soltanto quanti transistor riesce a infilare su un wafer di silicio, conta molto anche come riesce a sfruttarli. Un driver scritto bene, con tutte le ottimizzazioni magheggi che elementi geniali degli sviluppatori riescono a inventarsi per sfruttare al massimo quell'hardware, può fare davvero la differenza. Parliamo di 20, 30, 40, 50, 100% di speed up sulle stesse specifiche hardware, a seconda che il driver sia scritto molto bene o molto male. Non sto scherzando. Questa è una cosa di cui mi sono reso conto molto bene quando ho visto qualche presentazione dei driver Nvidia per la piattaforma CUDA. Quando investi così tanto nell'ingegnerizzazione di una piattaforma hardware e di uno stack software che girino in maniera veramente ottimizzata, lo fai per avere un vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza e quindi hai quell'ingrediente segreto che ti permette, a parità di wafer di silicio, di abbattere la concorrenza. L'idea di pubblicare gratuitamente tutti questi segreti industriali che fanno andare più veloce la tua scheda video o il tuo chip o di qualche altra cosa rispetto a quello della concorrenza, potrebbe non essere una mossa sempre vantaggiosa. Perché se un concorrente è in grado di mettere le mani sui tuoi design senza aver speso neanche un centesimo di ricerca e replicarli da domani, tu probabilmente come produttore stai ancora cercando di recuperare l'investimento fatto per raggiungere questi risultati e non vuoi che l'ultimo arrivato senza aver speso neanche un centesimo di ricerca sia in grado di mettere le mani sui tuoi design, replicarli e venderli alla metà del prezzo. Nessuno sarebbe incentivato a spendere soldi nella ricerca per fare qualcosa che vada più veloce, se tanto poi tutti quelli a trarne il massimo del vantaggio sono quelli che non hanno fatto nulla per arrivare lì. E ovviamente questo si applica anche a tutto il software in generale. Certo ci sono dei modelli di sviluppo software che permettono di crescere e comunque continuare a sopravvivere con un modello open source, ne abbiamo parlato anche in altri video, però non è così scontato. È innegabile che l'aspetto economico e contrattuale di queste cose collida nella maggior parte dei casi con la filosofia open source. Ma come ho detto, questo d'altro canto si ritorcia anche un po' contro gli utenti stessi che a. si trovano ad usare un software suboptimale, ad esempio nel caso della compatibilità con Linux oppure altre cose di cui abbiamo già parlato, e b. non possono avere nessuna garanzia su quello che stanno effettivamente eseguendo sulle loro macchine. Insomma, questo era giusto uno spunto di conversazione, ma sono sicuro che mi sarà sfuggito qualcosa nei punti, sia a favore che contro il modello open source nello sviluppo di software e driver. Spero di avervi dato qualche spunto di riflessione e qualche puntatore interessante per approfondire le ricerche per chi fosse interessato. Con questo è tutto, ma fatemi sapere cosa ne pensate di tutta questa intera faccenda. Dovrebbero essere tutti driver open source? Soprattutto, quale potrebbe essere un modello open source per Nvidia e compagnie simili che, diciamo, basano buona parte dell'aspetto economico sugli ingredienti segreti all'interno del driver, sul segreto industriale in sé. Niente, fatemi sapere che ne pensate e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti.